E' uno dei DJ italiani che sta avendo più successo in assoluto. Lui è Christian Marchi e questa sera, giovedì sera, è al cliffhanger di Madonna di Campiglio. Amici di Enjoy Television, siccome in pianura padana è arrivata l'alta pressione, c'era bel tempo, i gradi andavano su sopra i 10, abbiamo deciso di venire a Madonna di Campiglio a prendere un po' di freddo per incontrare Christian Marchi. Eh dai, ne è valsa la pena, almeno lo spero, per me è un grande piacere. Ciao a tutti gli amici di Enjoy! Cristian Marchi, questa sera al cliffhanger, Cristian. Serata dopo l'inverno, dopo il Natale, dopo tutte le festività, quindi Campiglio, stasera dimostreremo che è ancora piena. La serata è una prima di una lunga serie di serate che si faranno al cliffhanger e con gli ospiti appunto anche internazionali. E non ci saranno parecchi nomi per quanto ho capito, quindi stasera non vedo l'ora di cominciare. Io vorrei ricordare anche agli amici di Enjoy! Television che questo è un giovedì sera, una roba che non si vedeva da tempo perché voglio dire, insomma dai, è un periodo in cui si lavorava di venerdì, di sabato, ma gli infrasettimanali erano un po' scaduti. Giovedì sera, Madonna di Campiglio, cliffhanger. Pieno così! Città universitaria, no? Com'è questa cosa? C'è l'università Campiglio! L'università dello sci! Sì, l'università dello sci! Allora Cristian, riprende questa movida anche di giovedì? Sì, sicuro, sicuro. La movida piano piano riprende. È come una curva, no? La curva poi piano piano si addrizza, poi cambia forma, poi... giusto? Giusto! Cioè spero, non lo so, poi va su, poi va giù. Stiamo risalendo, risalendo. Risalendo, ma chi lo sa? Non esiste la crisi. Ma io te la... La crisi. Non esiste la crisi. Perché affermi questa cosa? Perché la crisi è un limite mentale che si pongono le persone che purtroppo uno oggi può scegliere, no? Dove può spenderli, come può spenderli, quanti può spenderli. In base al budget che uno ha, decide dove andare e cosa fare. Di conseguenza, o sono le strutture ad adattarsi a lui nel tempo, che mi sembra anche la cosa più ovvia, o se no, quando le strutture vedranno che le persone non vanno più in discoteca, non vanno più nei locali, non vanno più i ristoranti, non vanno più i predisco, prenderanno provvedimenti seri. Senti Cristian, i DJ si adattano a questo status o sparano sempre alto? Beh, i DJ si adattano mi sembra, no? Non lo so, te lo chiedo, sei tu il DJ? Credo che tutti si adattino, poi dipende anche sempre dal mercato, no? Come tutti, quando si ha parecchio mercato, magari il lavoro è distribuito un po' diciamo in tutto il territorio, non solo italiano, magari le persone possono anche avere la possibilità di scegliere e fare un po' da una parte e un po' dall'altra, giusto? L'avventura con Cristian Marchi non finisce qui perché questa sera inizia il cliffhanger, l'avventura, ma continua, poi io continuerò con lui, poi capirete tante cose. Domani sera passiamo le mani perché la meno. E dopo domani? E dopo domani andiamo al pronto soccorso. E meglio di no perché tra tre giorni mi parte per l'Australia Cristian Marchi. Speriamo, speriamo nel tifone, che non faccia tutti scherzi. Per me ma soprattutto per la gente, per le persone, per gli australiani. Ragazzi, buon divertimento, Cliffhanger Club Madonna di Campiglio.